E buongiornissimo caffè, bentornati al barbasso dalla vostra banana in pigiama preferita. Mi sono appena allenata e mi appresto ad andare a bere un caffè. Ore 9 del mattino del giorno della partita Inter-Fiorentina. Per me, che sto vivacchiando qualche volta a Firenze in questi mesi per lavoro, è quasi un derby. Torna a essere un derby dopo che avevo vissuto a Firenze anche nel 2018. Ho con la Fiorentina un rapporto particolare, parte di questo rapporto particolare, che la mia squadra al Vicenza la batte per 4 gol al Franchi, tempo addietro, ma soprattutto perché l'Inter e la Fiorentina hanno prodotto sempre dei match interessanti negli ultimi anni. Il problema di questo è che purtroppo questi match hanno coinvolto parecchi gol, e talvolta anche delle decisioni arbitrali quantomeno curiose che purtroppo ci hanno penalizzato. Oggi l'Inter scende in campo nel tardo pomeriggio. L'alternativa per me è vederla al solito bar oppure andare all'Inter Club sull'alto piano di Asiago, lo vedremo. In ogni caso avete la reazione sia negli shorts a caldo sia al post partita a freddo, quindi per favore iscrivetevi al canale che poi quello che guadagnerò, vi ho già spiegato, andrà in beneficenza. Detto questo, interessante vedere come la Fiorentina riproponga le stesse tematiche dell'anno scorso con Italiano, quindi è una squadra che davanti è potentissima, cioè produce tanto e alla fine anche concretizza tanto, che purtroppo però dietro si fa infilare parecchio. Ora è vero che il Lecce è una squadra che ha dimostrato buone cose nelle prime due giornate di campionato, ma il Lecce in realtà era sotto di 2-0 con un primo tempo della Fiorentina pazzesco. Nella scorsa partita è riuscito a rimontare di due gol, quindi la Fiorentina è una squadra che produce tanto, ma in realtà anche concede tanto. Chiaramente con davanti in Zola è pericolosissima, detto anche che al centrocampo ha anche dei buoni tiratori. La figura sulla quale secondo me si sta parlando troppo poco, e che io mi sono anche accaparrata al fantacalcio, perché ha già fatto degli assist, è Arthur, che sembra aver ritrovato un po' il suo mondo dopo l'esperienza alla Juventus, vorrei anche ben vedere. Comunque, la Fiorentina che appunto sul centrocampo può rivelarsi pericolosetta, è anche vero che comunque anche noi a centrocampo, probabilmente noi a centrocampo siamo la squadra più forte di tutte. Se la nostra difesa riuscirà a tenere, secondo me la chiave della partita sarà lì, se riuscirà a tenere le folate della Fiorentina, che di sicuro non si risparmierà, quindi i nostri Defray, Bastoni e Darmian, Pavard, secondo me non gioca Pavard titolare, secondo me sarà Darmian, Defray e Bastoni, probabilmente potremo portarcela a casa. Detto che non vincere questa partita significa non arrivare a pari punti al derby, significa due settimane di narrazioni allucinanti su come questo è un Euro Milan e l'Inter invece ha perso e alla fine ha perso dal mercato, magari proprio con Lukaku, fortunatamente Lukaku non ha segnato con la Roma, quindi almeno questa sera risparmiamo. Detto questo, fatemi sapere quali sono le vostre sensazioni per la partita. Ieri Napoli-Lazio, se avessi puntato quello che credevo, cioè che la Lazio avrebbe vinto, avrei vinto 1-2, tra l'altro in rimonta, Napoli che forse gli è stato detto troppo rispetto al fatto che ha vinto lo scodetto, ma in realtà Napoli si sta muovendo ancora sulle ali dell'entusiasmo, dobbiamo ancora vedere cosa sta facendo García. Lazio che non poteva perdere, Lazio non poteva perdere di nuovo e forse arrivare alla sosta con un punto non era al massimo. Parrebbe che anche i nuovi acquisti hanno dato un pochino di linfa. Le altre partite in realtà le abbiamo già viste quelle particolarmente rilevanti, quindi vedremo che cosa succederà tra Inter e Fiorentina. Nel frattempo la Roma si conferma una squadra relativamente problematica, ecco, mi sento solo di dire questo. Vedremo che cosa sarà in grado di fare la Juve, ma insomma intanto facciamo noi il nostro. Sì, stop whining.